Ben ritrovati amici del centro meteo italiano. Come da ultimo decreto ministeriale per limitare ulteriormente gli spostamenti, questi video saranno realizzati senza la presenza del meteorologo in studio. Il maltempo si sposta verso il sud con piogge e neve anche intense. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per mercoledì 1 aprile. Piogge e acquazioni sparsi al mattino al sud con neve fino a 300-400 metri sui settori interni peninsulari, più stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al centro nord. Al pomeriggio ancora piogge su Puglia, Calabria e isole maggiori, con fiocchi fino a 800 metri. Sole prevalente sulle altre regioni. In serata e nottata tempo in miglioramento ovunque salvo piogge sparse su Sicilia e Sardegna. Temperature minime in generale calo, massime in aumento al nord e in calo al centro-sud. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni a giornale sul nostro sito o sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.